Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Carly e oggi sono già in mood natalizio Non mi giudicate nei commenti Lo so che sono in largo anticipo ma quest'anno non vedo l'ora che venga il Natale Come ben sapete ho sempre fatto abbastanza schifo nei dropper Ma penso che due anni fa la situazione fosse ancora più critica Non ci credo! Ce l'ho fatta! Non ci credo! Ce l'ho fatta! Mezz'ora dopo! Ce l'ho fatta Ale! Sei felice? Brava è arrivato il sushi È arrivato il sushi Ci hai messo mezz'ora esatta Wow è stato un parto Incredibile Un parto E quindi ecco perché oggi voglio ritentare e vedere se sono migliorata nel corso del tempo Livello 1 Sappia Non può essere difficile Dico bene o dico giusto? Io mi sono buttata così senza neanche guardare Però aspetta Aspetta Oh Ok La faremo andare bene lo stesso Ogni tanto c'è questo micro bug per cui anche se cadi qua sull'angolo lo prende lo stesso Oh ragazzi one shot eh Cioè il primo colpo è veramente incredibile Passiamo al secondo livello Se sono tutti così ho vinto Allora fammi un po' vedere Scommetto che è qua in mezzo Guarda 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 che precisione Ok no ma c'ero quasi L'ho visto l'ho visto A volte ricordo che dovevo stare delle ore per completare una mappa Passiamo per di qua Ok no troppo Idea se scendessi direttamente da qui così Sì Sì Ah quasi 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 Oh mio dio Ragazzi se riesco a fare il prossimo in soli tre tentativi siete costretti A lasciare mi piace Ho tre tentativi Per il terzo livello Intitolato Natura Allora 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 È acqua quella che vedo No no è fake Non ho visto dove era Ok secondo tentativo ce la posso fare Acqua non ce n'è Però c'è uno slime Ok facciamo che alziamo la posta Se entro 40 tentativi riesco a completarlo Lasciate mi piace Non farò schifo Un livello del genere mi avrebbe richiesto ore ed ore Ma io in 5 minuti ve lo risolvo Sta a vedere sta a vedere Guarda Ah 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 Lo slime addio Ok Ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho e non ce l'ho Perché è da questo lato Ok ci riprovo un'altra volta Un'altra volta Oh 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 Quasi Quasi ho trovato il punto perfetto Ok ho capito ho capito perfettamente È questo Lasciatemi cucinare Ce l'ho 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 Sì Sì Oh mio dio ti prego stai ferma Carly Stai ferma stai ferma stai ferma stai ferma Sì Sì grazie a dio Fatta Easy Brava Con solo 115 tentativi Comunque sicuramente in questo video Metterò degli spezzoni anche dei miei vecchi tentativi di dropper Che ho miseramente fallito Così almeno vedete la differenza Due anni dopo Oh Gesù Dai ma che ci vuole Che ci vuole Era l'ultimo Livello natura Non mi sei piaciuto per niente Spero di non doverlo rifare mai più Oh mio dio Non mi sta piacendo Non mi sta piacendo Ma come l'impressione che sia un finto livello difficile Che in realtà sia più facile del previsto Non ho visto l'acqua Non ho capito se quella fosse acqua Ma va bene Non è acqua Confermo Non è acqua Ce la devo fare Eccola eccola L'acqua l'ho vista L'ho vista L'ho vista Ok Chiaro e tondo Chiaro e tondo Sempre a mezzo metro dall'acqua La storia della mia vita è questa No non ero pronta Ok Un bel tuffo di qua Non è difficile Non è difficile E non tanto così Bastava pochissimo Ce la farò finire questa pappa Perché a un certo punto della mia vita Vorrei andare anche a cena Sì 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 L'ho visto l'ho visto l'ho visto E sempre a mezzo metro cadiamo Sempre lì eh Carly Mi raccomando Sì vabbè L'ho visto Vi prego di prendervi un momento Qua sotto nei commenti Per scrivere quante morti Secondo voi ho fatto In questo video Intanto queste Sono quelle che ho fatto Fino adesso Ricordo il povero Ale Quando facevi i video Nei dropper con me Mi doveva sempre aspettare Perché non riuscivo mai a finirlo Lo faceva sempre prima di me Carly ma È facilissimo Basta solo che segui questo punto E fai Questo è lui Lui parla così Dai 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 Oh mio dio Ero sull'acqua Non vale Non vale L'ho preso in pieno invece Sì 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 C'è 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 A quattro livelli Dopo questo video Credo di non volere Vedere mai più Delle mineshaft in vita mia Giuro Possibile che io Non sia cambiata Nel corso degli anni Ero così brava Ci ho perso totalmente La mano Invece Oh mio dio Io piuttosto preferirei Registrare il video Di prova Non arrabbiarti Il dropper Causa profondi danni morali Quindi mi raccomando Non ci giocate Per troppo tempo Queste mappe Sì sì C'è c'è Oh mio dio Oh mio dio Basta Sto odiando Questo livello Con tutte le mie forze Ragazzi Questi sono tutti I miei tentativi Sto impazzendo Non sto riuscendo A farlo E quindi direi Che ci torno In un secondo momento Su questo livello Perché mi sto friggendo Il cervello Non ne posso più Passiamo al prossimo livello Mi prego ragazzi Sto sudando Cosa mi è saltato In mente Di fare un altro video Su il dropper Io veramente Oh Un altro colore Che non siano le mineshaft Meno male Meno male Sento che qua Andrà tutto bene Non può andare male Sono solo caramelle Non può Andare male Cioè incredibile Come il livello 6 è più facile Del 5 Com'è possibile Oh mio dio È fantastico È fantastico L'ho fatto Tipo in 5 tentativi Che benessere Toccare l'acqua Almeno una volta Dopo mezz'ora Letteralmente mezz'ora Che ci sto provando Nel livello 5 Anche questo Sarà facile Dal livello che si chiama Acqua È per forza facile No Ok Easy easy L'ho vista L'ho vista L'ho vista Penso che il livello 4 Sia stato creato Da una persona Diabolica E cattiva Che odia Le persone Se no Non c'è altra spiegazione Ma questo Sì sembra facilissimo Le mineshaft Cosa vuoi che sia Papapapapapap La mia pazienza Si è ridotta A un chicco di grano Oh mio dio Sti vetri gialli Che fastidio C'è la sabbia sotto E si confondono Perfettamente Sapete Chi è un'altra persona Cattiva Chi ha creato Il livello 6 Però mai crudele Quanto quello che ha inventato Il livello delle mineshaft Che secondo me È la stessa persona Però Oh sì Fantastico 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 Sono Incredibile Incredibile Più o meno Ragazzi Ridendo e scherzando Secondo me Un centinaio di morti Le abbiamo Forse tranquillamente Anche più di 100 Forse anche 150 Un solido 200 Perché no Prima parte è stato un inferno Immagina la seconda parte La seconda parte Della mappa Ve la porto solo Se lasciate almeno 3000 mi piace Perché dovrò raccogliere Tutta la mia pazienza Però dipende da voi Ragazzi Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Sicuramente Qualcosa è cambiato Ma non facendo Grazie a dio I dropper tutti i giorni Non sono ancora Gran che Ma si può sempre Migliorare ovviamente Spero che questo video Vi sia piaciuto Ciao